Fabolosità, favorosità, 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 favorosità Ciao amici miei, bentornati in un nuovo video Mukbang Oggi vado a mangiare questo ricotto pronto che mi è stato inviato da lei, dalla lista amazona Io mentre cucinavo ovviamente l'ho assaggiato, sembra strabuono Mi sono armato di forchetta ragazzi, perché giustamente mi è stato fatto presente che Faccio molto rumore quando mangio riso poi e soprattutto faccio rumore anche con i denti da fastidio Ho messo il tovagliolo, però cercherò di utilizzarlo il meno possibile Perché giustamente mi è anche stato detto che è un po' fastidioso che mi pulisco sempre Io ovviamente i vostri consigli e le vostre critiche, lo sapete, che li prende a cuore Le valuto e in questo caso sono tutte critiche costruttive che io appresso e delle quali io ringrazio Allora andiamo a mangiare e vediamo Di cosa parlare quest'oggi Ho già fatto rumori con i denti Che buono Allora è praticamente, non ve l'ho detto Pomodoro e porcini Pomodoro vabbè ce ne vedo poco, però è buono Sa di porcini Mmmmm Cottura al punto giusto, ci ho aggiunto un po' di olio a crudo Allora ragazzi, parliamo, oggi parliamo di me Perché l'altro ieri ero stra felice e stra carico perché avevo registrato, editato Il primo, il secondo del risultato in realtà di chattare le disagiate Che poi è uscito ieri E però la felicità come arriva se ne va nel senso che Cos'è successo? Britney Senti giù da lì Britney Dicevo che poi già ieri ma già prima che uscisse il video perché non è Mi sono buttato giù di nuovo Ma non per il video ragazzi ci mancherebbe Fortunatamente YouTube riesce a tirarmi su Però è un po' un contentino che do al mio cervello Perché poi mi ributto giù Perché voglio lavorare ragazzi, non ce la faccio più veramente Non ce la faccio più a essere in casa Non ce la faccio più a essere senza fare nulla Nulla nel senso, cioè senza avere lo scopo di alzarmi la mattina per andare a lavorare Mi manca veramente ragazzi Adesso sono fermo da novembre dell'anno scorso In realtà, beh, novembre dell'anno scorso mi è scaduto il contratto Però stavo già a letto da metà settembre E poi da metà settembre Sono stato a letto fino a febbraio di quest'anno E vabbè, comunque Non lo so, raga, sono stanco Sono stanco di stare in casa E mi butto giù perché I curi con la io rimando Ovviamente sempre per lavori come categoria protetta Ma non solo come impiegato Anche come operaio E pulizie Cioè mando per qualsiasi cosa Sentirete i cani che fanno avanti indietro Ma lo sapete che è anche casa loro E quindi è compagnia per me ma anche per voi Mi butto giù perché Sono stato contattato una volta sola Ma tanti mesi fa E poi continuo a mandare Curi con la quasi tutti i giorni Perché Non tutti i giorni perché Non ci stanno tutte queste offerte di lavoro Come categoria protetta Però non mi chiama nessuno neanche più un colloquio E sta cosa mi butta giù E quindi niente Si all'inizio mi ero buttato tanto su youtube Però Nel mese di agosto ho un po' allentato la presa L'avrete visto Avevo detto che non avrei caricato tanti video Però I tre video a settimana Per il momento li sto rispettando Però Non lo so Non Ho bisogno di un lavoro Ho bisogno proprio di uscire di casa E andare al lavoro Poi vabbè Conta tanto Il fatto che Stando a piedi Esco molto poco Adesso Dopodomani faranno A proposito Della bicicletta elettrica Io ho privatizzato il video dove chiedevo i contributi Perché l'abbiamo superati Era 120 euro Dovemmo arrivare a 120 euro Siamo arrivati a 150 Quindi il video l'ho privatizzato Perché Non è necessario Che mi ha dato altri soldi Insomma Dopodomani Mi addebiteranno la prima rata Io non ho ancora capito Se è di 100 o 120 euro Perché un operatore mi dice 100 L'altro operatore mi dice 120 euro Comunque ce ne sono 150 E da lì Spero che mi mandino A questa bicicletta Il prima possibile Perché ci ho bisogno di uscire Ci ho bisogno Ci ho bisogno proprio di uscire di casa Adesso il 16 Ho appuntamento Con il CSM E l'assistenza sociale Io lo dico E comunque Continua ad avere Questi sbalzi di umore Che vanno Dallo Straferice È successo solo l'altro ieri Ma perché ero molto Carico Per certe disagiate Però Come sale Scende subito Sto umore Sto farmaco Non mi fa più effetto È inutile che Insiste La psichiatra Cioè insiste Lei ci prova Giustamente non fammelo cambiare Anche perché Non è che ne posso prendere Chissà quanti altri Perché Ne abbiamo provati diversi Negli anni Ma tutti hanno dato effetti collaterali Ci sarebbe quest'altro farmaco Che vi dicevo Nell'ultimo vlog Dove però Devo essere monitorato Per un mese Quindi sicuramente Cioè Devo essere ricoverato In struttura E devo essere monitorato Credo per almeno un mese Cioè Per quattro mesi Devo fare L'emocromo Tutte le settimane Però beh Non starò ricoverato Quattro mesi Eventualmente Credo un mese E forse Mi farebbe bene Cioè Anche perché Avevo iniziato Quel percorso a Villa Igea Poi sono scappato Perché sono stato male Per il farmaco Me la sono vista brutta Ma Non è tanto quello Perché ci può stare Ma proprio il fatto Che se ne sono lavati le mani Si hanno detto No Era un attacco di panico Non era Non era una reazione allergica E allora Gli sono andato via Perché da pagliacci Le cose del genere Quindi Così Chiari sera Volevo fare una live Chiari sera Era Lunedì ieri Era Però non l'ho fatta Perché comunque Chattare di Saggiate Non ha fatto molte visual Quindi Ho detto meglio Non coprirlo con una live Però stasera la faccio Voi questo video Lo vedrete domani E Niente Cos'altro dire Ma Diciamo che comunque Questi live Che voi Mi fanno bene Ragazzi Ed è comunque Quell'euforia Che mi Mi fa sogliere Il tono dell'umore Per tutta la serata Però poi Domani Quando mi sveglio Non sto avendo Problemi a dormire Anzi Sto dormendo parecchio Sto sognando molto La maggior parte Sono sogni tormentati Mi sveglio sudato Come vedi Questa notte Che mi sono sognato Praticamente Ero in galera Non so perché Ma ero Ero stato arrestato E mi trovavo In una prigione Dove c'erano Sia uomini Che donne Ero molto spaventato Dentro la prigione Perché magari Che non so Nei film si vede Non ci sono mai stato La galera Quindi non lo so Com'è Nei film Si vede Sempre De botte Prepotenze Eccetera Quindi Ero molto preoccupato Di subire Del bullismo Dentro La carcere Sì Dentro il carcere Però alla fine Quindi se tu Continui a reccare Il pavimento È normale Che poi stannutisci E invece poi Alla fine Ero diventato amico Di tutti E tra l'altro Ho trovato anche Un acciocciò Tutto per me Mi fa ride Però A un certo punto Vengo rilasciato Sempre nel sogno Ovviamente E Mi collego Alla vita reale Dico Cavolo Io adesso Che esco Da qui Non troverò Più lavoro Cioè Già non lo trovavo Prima Figuriamoci Adesso Che ho Precedenti Penali E quindi Ero disperato Poi mi sono svegliato Di colpo Ero tutto Studato E quindi Faccio sogni Un po' così Nei quali Comunque Durante il sogno Non sto male E alla fine Poco prima di svegliarmi Che comincia L'ansia nel sogno E quindi Mi sveglio tutto Sudato Chissà Per caso Ho chiamato Di stare in galera È curiosa Questa cosa Scusate ragazzi Ma non posso Fare a meno Di fare rumore Così adesso Però Con il cucchiaio Faccio proprio Tum Tum Sembrava che Stava a martellare Oltretutto Sto registrando Quella fotocamera Posteriore Infatti Non so se sto a guardare L'obiettivo Non lo vedrò Mentre il giorno Al video Mi fate sapere Se la risoluzione Vi piace di più Così Che sicuramente È più alta Quindi diciamo Che in questo Mookman Non è un Mookman Molto positivo Questo Un buon bicchiere d'acqua Poi mi ha reso I mezzi denti Però Mi andava comunque Di raccontarvi Ragazzi Perché poi Io capisco che Vi metto un po' Come si dice Vi confondo Perché un giorno Mi vedete su Dal giorno dopo Mi vedete giù Però Funziona così Purtroppo Nel senso che Nell'ultimo periodo Sto funzionando così In teoria La terapia farmacologica Non dovrebbe Farmi fare questo O O meglio Non così frequentemente E sono due mesi Che lo sto dicendo Comunque Alla psichiala Vediamo il 16 Però ragazzi Mi dispiace Se vi confondo Ma Immaginate Se Confondo voi Come posso stare Dentro io Cioè Scombussolatissimo Ieri e oggi Sono stato Tutto il giorno A letto Ho provato Ad alzarmi A pulire un po' Però poi Dico No no Vuoi andare a letto Vuoi andare a letto Secondo me La soluzione È un lavoro La soluzione È il lavoro Perché Ok Che ce l'ho avuto Anche negli altri Periodi Sono stato Depresso Anche in questo modo Ma non per così Tanto tempo E di solito Trovavo lavoro E mi riprendevo O almeno Diciamo Avevo tutta questa Positività E la concentravo Sul lavoro Però la concentravo male Perché davo troppo Sul lavoro Ne abbiamo parlato In una live Un po' Di tempo fa Mi pare E quindi Adesso Voglio assolutamente Un lavoro Dove sono tutelato L'ho detto Un sacco di volte Poi I commenti Che non approvo Dove mi scrivono Vabbè Parassita Accattone Vattene a lavorare Non c'è Devo fa un cazzo Ma io dico Trovatevelo voi Trovatevelo voi Un lavoro Come categoria Per data Perché io lo cerco Da quasi un anno Ormai No quasi un anno No perché Da febbraio Mi sono calzato Sono sincero Però lo cerco da mesi Ma non lo trovo Invece di venire qui A rompermi i coglioni A dire Vattene a lavorare Parassita Trovatemelo voi Un lavoro Addirittura Quando pubblicai la foto Del Mookman sushi Che mi era stato offerto Questa ragazza Che poi ho bloccato Su Instagram Eh io il sushi Me lo compro Andando a lavorare Alza il culo E batte nel lavoro Ma Cioè ma la gente Ma io dico Ma come ragiona Nel senso Comunque Se mi segui Sai che ho sempre lavorato Almeno da quando sto sui social Ho sempre lavorato Tranne il periodo di Manola Sono stati due anni Sono stato due anni a letto E altri due anni Che ho fatto video E in quei quattro anni Totale io non ho lavorato Ma perché non lo trovavo In lavoro Ma poi non stavo neanche bene Però Venirmi a dire Io vado a lavorare E me lo compro Cioè Anch'io mi sono sempre Begato da solo Andando a lavorare Perché sta cattiveria Nel dire Eh vattene a lavorare Anche tu Ma perché Se mi pare Che non me lo cerco Il lavoro Cioè E non mi fanno Sta male Sti commenti Mi fanno solo Di boh Cioè C'è proprio cattiveria Perché io Non A me non verrebbe mai in mente Di andare a rompere le palla A qualcuno Che non sta a lavorare Ci possono essere tanti Motivi Però vabbè Questo video L'ho registrato Perché In realtà domani Non avevo nulla Da caricare Però Quando sto così negativo A me non piace Registrare video Perché non mi piace Trasmettere negatività Io YouTube L'ho sempre utilizzato Per far sorridere Per far star bene Chi mi guarda E comunque Fare un video Quando sto così Non è che mi piace Molto Però Vediamo un po' Come va Perché mi è stato chiesto Di commenti Andrea Cerca di parlare Di più Durante il mukbang Però ragazzi Se ho qualcosa Di molto Appetibile Tipo Che ne so L'altra volta Mi le graffi In sushi Io lì non ci capisco Più nulla Perché per me Il cibo L'ho sempre detto È una dipendenza E quindi In quel momento Che ho quella roba Molto appetibile sotto Io neanche me ne rendo più conto Che sto registrando Voi direte Ma non mi sembri deficiente Non mi sembri ritardato Però purtroppo è così Cioè Voi mi vedete lucido Intelligente Che parlo Che dico Che faccio ragionamenti Però Quella è la mia debolezza Questo non è un piatto Di comfort food Ecco Diciamo così E quindi Riesca a parlare Ma se c'avessi il mcdonald's Qui davanti Il sushi O la pizza Non parlerei così Scusate il taglio Ragazzi Ma ho dovuto togliere Un pezzo di cartone A prinse Che non so dove cavolo L'ha preso Ma se lo stava mangiando E di che fai Quei adesso Cosa vuoi Ti sta guarendo l'occhio Con l'antibiotico Amore Comunque Ragazzi Non finirò di scusarmi Amore Sto mangiando Non puoi venire adesso Che bello Che ti sta guarendo l'occhio E non finirò di scusarmi Per la negatività Di questo video Non vi nascondo Che avrò l'anza Durante tutto l'editing E poi Non lo riguarderò mai Cioè una volta caricato È uno di quei video Che lo riguarderò Scusate ma il rumore Lo devo fare Adesso come faccio Se no Direte Usa il dito Eh Appena toccato a prinse Perché gli ho messo Tanti palassitario ieri Dai Non posso far sta porcata Vabbè Così Era buono comunque Meritava Ve lo consiglio questo Merita proprio Adesso Bé un po' d'acqua Mentre Ve li tossisce Nulla ragazzi Se avete Seguito questo video Fino a questo punto Hashtag Andrea Ripiliate Tanto Se non siete romani Non sapete come si scrive Avete visto qui Come si scrive Io vi ringrazio Per aver seguito Questo video Fino alla fine Non vi chiedo like Non vi chiedo nulla Ragazzi Perché un video del genere Non merita nulla Secondo me Grazie per avermi ascoltato Grazie Per starmi sempre vicino Grazie per chi mi aiutate Grazie di tutto Ragazzi Mi voglio un sacco bene Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti